Gentili spettatori di Fiumicino Online, come tutti sapete siamo nel pieno della campagna elettorale per l'elezione del sindaco qui nella nostra città di Fiumicino. Fiumicino Online sta cercando nel suo piccolo di far conoscere un po' tutti i candidati sia a livello di sindaco che di consiglieri ed è proprio per questo che oggi abbiamo qui nella nostra redazione il signor Walter Rollo che dopo una onorata e prestigiosa carriera in una istituzione pubblica ha deciso di gettarsi in un campo nuovo, quello che è la politica. Che cosa può dire ai nostri ascoltatori visto che lei ha detto che la politica è bellissima e che tutti quanti ci dobbiamo impegnare per renderla migliore? Innanzitutto saluto gli spettatori di Fiumicino Online, mi presento sono Walter Rollo, 54 anni, so Fiumicino da circa 4 anni. Sono un candidato alla lista civica, come potete vedere a miei spalle, crescere insieme, che appoggia il candidato sindaco Gonnelli Mauro. Matteo, mi consenti di chiamarti così? Mi ha posto una domanda. Perché la politica? Perché ho affrontato per tanti anni una sfida che si è conclusa a ottobre dell'anno scorso. E adesso ne voglio affrontare un'altra, quella della politica. Perché la politica è una cosa bellissima e che tutti, e dico tutti, dobbiamo impegnarci per renderla migliore. La lista civica cresce insieme, è composta da tutte persone che si approcciano per la prima volta alla politica, escluso il capolista che è Severini Roberto. e quindi non sono pratici dei meccanismi, ma tutta gente volumente rosa che sta al servizio del cittadino. Noi, dalla lista civica, vogliamo portare a Fiumicino un vento di novità. La novità di stare vicino ai cittadini e di ascoltare la loro voce, di ascoltare quali sono i problemi reali della cittadina. Per dire qualcuna, l'illuminazione pubblica, tante strade a Fiumicino, soprattutto qua in Isola Sacra, sono prive di illuminazione pubblica. E sappiamo tutti benissimo che nelle ore più buie della giornata si possono verificare degli eventi tipo furti, eccetera. E quindi noi dobbiamo incentivare queste cose per rendere anche più sicura la cittadinanza. Un altro punto è l'aggregazione giovanile. A Fiumicino i giovani non sanno dove aggregarsi. Io mi impegno, e la lista civica si impegna, a trovare dei posti per l'aggregazione giovanile. Un altro punto importante che leggo nel vostro programma elettorale, Rollo, è quello che parla della sanità e della sicurezza. Anche perché noi come Fiumicino Online riceviamo molte lettere, stiamo ricevendo molte lettere, per quanto riguarda la sanità, che è definita un po' scarsa. Per quanto riguarda la sicurezza, perché sembra che il territorio è talmente grande che non ce la fanno le forze dell'arma che sono adesso presenti a gestire tutto quanto. Che cosa può dirci? Per quanto riguarda la sicurezza, che è un tema importantissimo, perché il cittadino percepisce sulla propria pelle i reati che vengono commessi dall'amico criminalità. E quindi servirebbe un maggiore sforzo delle forze polizie, un maggiore coordinamento sul territorio delle forze polizie. Non ci scordiamo che i presidi dell'arma sono in tutte le frazioni del Comune, Torri in Pietra, Passo Scuro, Fregene, Fiumicino Paese. Purtroppo con questa spending review che c'è stata ultimamente, come tutti quanti la conosciamo, sicuramente ci vorrebbero maggiori forze in campo. Però se riusciamo a fare un ottimo coordinamento tra le forze che ci sono sul territorio, qualche problema in più si potrebbe risolvere. Per quanto riguarda la sanità, secondo me a Fiumicino occorrebbe un polo ospedaliero. Perché Fiumicino ha circa 100.000 abitanti, circa 100.000 abitanti, è in crescita esponenziale e quindi un polo ospedaliero non ci sarebbe male. Atteso che il Grazie, anche seppur vicino, serve una popolazione di circa 500.000 abitanti che è ostia. Quindi la sanità è un altro aspetto importante del nostro programma. Tu all'inizio hai detto la politica è bellissima, diamo voci al territorio. Per dare voce al territorio bisogna che il cittadino venga reso partecipe. Che cosa vuoi dire ai tuoi ascoltatori prima di concludere? Che i cittadini che verranno a prospettarci, i problemi reali saranno sempre ben accolti. Perché le critiche costruttive servono a tutti. Le segnalazioni servono e non rimarranno lettere inascoltate. Allora spettatori, dopo aver dato voce a Walter Rollo che ci ha detto ascolto rispetto e vigilanza e diamo voce al territorio, vuoi salutare gli spettatori con qualcosa da dire per concludere? Sì, noi della lista Crescere Insieme non siamo amministratori navigati, ma sicuramente ci stiamo mettendo la faccia e ci stiamo mettendo il nostro impegno senza nessun interesse, perché noi gli interessi non ne abbiamo.